Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi ci addentreremo nel misterioso mondo di Antonella Fiordelisi. C'è uno spoiler non spoiler che ha lasciato tutti i suoi follower con l'acquolina in bocca. Ma prima di tuffarci in questa avventura, vi chiediamo di cliccare su iscriviti per restare sempre aggiornati. Il vostro supporto è fondamentale per noi, senza di esso non potremmo creare questi fantastici contenuti per voi. Ora, immergiamoci nella storia. Recentemente, Antonella ha rivelato tramite una storia su Instagram di dover studiare dizione, oltre ad un altro misterioso progetto che tiene tutti sulle spine. Ci invita a ricordare questa storia, poiché il percorso che la attende è lungo e intricato. Che cosa nasconderà il futuro di Antonella? Un nuovo inizio professionale, forse? Attendiamo con ansia ulteriori sviluppi. Ma non è tutto. I genitori di Antonella hanno recentemente fatto visita a Milano per sporgere ben due denunce. Su Instagram, Antonella ha condiviso una foto di sua madre mentre compila la lista degli haters da denunciare. Una mossa legalmente giustificata o un passo troppo audace? Cari amici del nostro canale, vogliamo conoscere il vostro parere. Ditecelo nei commenti e condividete le vostre opinioni su queste ultime vicende di Antonella Fiordelisi. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale. Fateci sapere cosa vorreste vedere nei prossimi video. La vostra interazione è il motore che alimenta la nostra creatività. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi per non perdere nemmeno un aggiornamento. Fino alla prossima volta!